7 ottobre, buongiorno e benvenuti a tutti cari telespettatori di FanoTV, questa è Occhio ai giornali, il Cometo la stampa del giorno che come sempre comincia con il Santo, oggi è la Beata Vergine Maria del Rosario, è una giornata importante soprattutto per i devoti di Maria e per coloro che pregano il Rosario ogni giorno come facciamo noi in diretta tutti i pomeriggi alle 15 qui sul canale 17. Il sole sorgerà alle 7.12 e tramonterà alle 18.40 e adesso andiamo a vedere il tempo. Allora partiamo da questa immagine del radar che ci spiega e ci dice subito un po' come è la situazione del maltempo, oggi è una giornata difficile da questo punto di vista perché pioverà, pioverà tanto, come vedremo anche alcuni comuni hanno chiuso le scuole per evitare disagio e quant'altro, comunque ecco il verde, il giallo, il giallo indica pioggia intensa, tutte le marche oggi saranno interessate dal cattivo tempo, da questa perturbazione, tra l'altro attenzione anche alle mareggiate, ho visto c'è tanto vento anche questa mattina. Allora questa è la protezione civile delle marche invece che per la giornata di oggi appunto prevede precipitazioni diffuse con cumulate a fine giornate abbondanti in particolare in colline e in montagna e picchi molto elevati. I fenomeni a carattere temporalesco transiteranno nel corso della giornata da nord verso sud, quindi dalla provincia di Pesero fino a quella del sud delle marche. Anche qui venti di burrasca, vento modellato lungo la costa, mare agitato, insomma la situazione oggi è molto difficile. Poi domani il tempo continua, soprattutto al mattino, ad avere precipitazioni anche abbondanti, soprattutto nei settori interni, quindi in montagna e localmente lue deboli però lungo la costa. La giornata continuerà sul Pesarese ad essere perturbata con locali rovesci o brevi temporali anche nella giornata di sabato. Nei giorni a seguire invece la circolazione continuerà ad essere di natura ciclonica ma molto probabilmente senza precipitazioni associate. Se vedete infatti la rotazione sembra proprio un ciclone che sta sopra la nostra regione, che gira, gira e scarica pioggia. Allora adesso andiamo invece a vedere i giornali. Cominciamo dal Corriere Adriatico. L'edizione di Pesero questa mattina l'apertura è per la vendita dell'ex bocciodromo, ceduta all'asta per 700 mila euro la vecchia struttura di via Foscolo, siamo a Pesero, il comune aspettava da sei anni l'area centrale contesa da tre imprese, si realizzeranno appartamenti, zero offerte invece per altri immobili. Poi la bella notizia sportiva, la VL spicca il volo con Jones schiacciata a Trieste 74 a 61. Le altre notizie in breve, una sfilza di accuse per il maggiorenne dei baby teppisti che è stato arrestato, pacco dono di frutta fa finire a processo un pastore evangelico e poi a Urbino blitz dei carabinieri all'arrivo dei pullman sequestrato Ascic. A Fano invece fanno stanzi a 3 milioni e 700 mila euro per rinnovare gli asfalti. Recupero Amaro per il Fano, sconfitto 2 a 1. Il carino di Pesero, centro pagina ovviamente la notizia per lo sport, l'urlo della VL, Trieste battuta, la prima in casa fa felice Aza, poi Manette il capo della baby gang, Piazzaredi compie 18 anni e finisce in carcere per rapina, aggressioni e furti, almeno 5 gli episodi. Poi la carella infinita, ex AMGA, la sentenza del Tar sia la bonifica verde, ma poi si potrà costruire. Poi c'è la segnalazione di un focolaio Covid al monastero di Fonte Avellana, tutti vaccinati, nonostante il vaccino, ma comunque pare che non siano gravi. Discoteche invece così non ha senso, apertura al 35%, gestori in rivolta. E poi i paradossi del Green Pass all'ospedale si entra senza, le strane regole e la nostra prova, la prova dei giornalisti del resto del Carlino che sono entrati e hanno raccontato un po' come è andata all'interno sia dell'ospedale di Pesero che di Fano. Poi morto Cicoria, il re indiscusso della palanuoto degli anni 60, un campione di serie A per quanto riguarda lo sport, sempre dalla prima del Carlino, Fano ribaltato in due minuti, Abruzzo, Amaro, Villa Fastigi, Lite per la fila in farmacia, finisce a Pugni. Andiamo a vedere anche il Carlino di Ancona, la fotonotizia è per coloro che hanno scelto di guidare auto a metano, soprattutto per risparmiare, ora invece il metano non dà una mano, prezzi stratosferici in città, ad Ancona, proteste agli esi, è arrivato a 2 euro al chilo. Poi arriva la bufera, chiudono le scuole, allerta meteo, i sindaci di quasi tutta la provincia di Ancona invitano a stare a casa, rischi di alluvioni e frane. E allora partiamo proprio da qua, anche perché certamente la provincia di Ancona è quella diciamo probabilmente che sarà un po' più colpita, ma poi col tempo non c'è nulla di scientifico. Allora c'è aria di bufera, chiudono tutte le scuole, questo è il titolo del Carlino di oggi, la Mancinelli, sindaco di Ancona, dice non possiamo rischiare, decisione storica per Ancona, Serigaglia, Iesi, Osimo e Falconara, capita raramente una simile allerta, si ferma anche l'università, allarme soprattutto al mattino, meglio limitare gli spostamenti degli studenti. E allora per ora ecco c'è poco da aggiungere, bisogna soltanto come dire fare attenzione soprattutto quando si va con le macchine, soprattutto in questo frangente, siamo nel mese di ottobre, quindi c'è il cambio delle gomme delle auto, ancora magari molti hanno quelle estive, insomma ecco siamo in una situazione un po' così, quindi bisogna prestare e pensarle tutte per stare attenti. Andiamo a vedere invece la pagina di Fano del resto del Corriere Adriatico. Malore fatale di un ciclista, shock nella piazza Costanzi, Armando Ademi, 88 anni, è crollato a terra dopo essere sceso dalla bicicletta. Qui vedete la fotografia con il telo bianco steso sulla salma prima della sua rimozione, è successo ieri mattina intorno alle 7.40 in piazza Costanzi a Fano e nemmeno i reiterati tentativi di rianimarlo sono serviti a fargli riprendere conoscenza. È morto così a pochi metri dall'incrocio con via Garibaldi, questo ciclista di 88 anni e la causa del decesso probabilmente un malore improvviso e fulminante. Poi c'è anche altra cronaca, sempre sulla pagina di oggi del Corriere Adriatico, scontro autoscooter, è l'ennesimo nello stesso punto lungo via Roma, vicino al distributore, l'urto durante la manovra d'ingresso nell'area appunto del distributore di carburante, esso ferito il ciclomotorista. Adesso invece la pagina 3 del resto del Carlino, parliamo del Green Pass. Il Green Pass lo chiedono dappertutto, lo chiederanno ancora di più dal 15 di ottobre, ma non in ospedale, questo è davvero un paradosso, lo scrive il Carlino questa mattina in questo viaggio all'interno di due ospedali, che sono i due ospedali più importanti delle due città, Fano e Pesero, quindi Green Pass solo nei reparti, il resto è zona franca. Al San Salvatore e al Presidio di Muraglia sono entrati Nicola Smasetti e Tiziana Petrelli e hanno fatto questo giro. Allora, Masetti dice all'ingresso, scrive, non è necessario mostrare la certificazione verde, obbligatoria solo dove ci sono i degenti e al pronto soccorso e fin qui è tutto regolare. Il problema è che non sempre c'è chi controlla. Stessa cosa più o meno a Santa Croce, dove addirittura qui la mascherina sembra essere un optional, eppure l'igienizzante. Si parla di cartelli messi in posizioni poco strategiche, dove non si notano un termoscanner tra la macchinetta del caffè e il distributore di merendine, insomma dove anche lì si fa fatica a vedere. Ecco, la Petrelli racconta un po' quello che ha visto nel padiglione B e non solo dell'ospedale Santa Croce di Fano. E la chiusura del suo pezzo, la dice lunga perché ve la leggo subito, eccola qua. Allora, poi prima di uscire, scrive la Petrelli, ci igienizziamo le mani per paura ovviamente e ce ne torniamo a casa un po' avviliti. Maratona vaccinale invece ha Tre Ponti di Fano, il primo giorno si ferma a 5 dosi, fino a venerdì il camper dell'Asur stazionerà in via Chiaruccia dalle 10 alle 17, grazie ad una iniziativa della CNA. Ci aspettavamo un'affluenza maggiore, dicono gli organizzatori, forse colpa della pioggia o della disinformazione. Mentre sotto la cronaca scende dalla bici, si accascia e muore, shock in centro, la vittima è un pensionato di 88 anni, Armando Ademi, colto da un malore inutile, i tentativi di rianimarlo. La pagina di Fano invece del Corriere, il check up di tutti gli asfalti, tema dunque la viabilità ma soprattutto le strade con la Brodo, stanziati 3,7 milioni di euro, stabilito l'ordine di priorità degli interventi per 84 chilometri di strade comunali. Mentre una delegazione di Polonia, Ungheria e Grecia hanno fatto visita ai capannoni dei carri del Carnevale nell'ambito di Erasmus, attivato da una scuola media che è la scuola media Nuti. Parlando ancora di certificati, di certificato verde, nella pagina di Fano, certificato verde anche in comune, dirigenti e sindacati in fibrillazione, oggi un incontro per stabilire le modalità di verifiche, intanto Mascarin, l'assessore assicura, nelle scuole è tutto tutto ok. Non va sottovalutato l'impatto dell'obbligo su alcuni servizi con personale però all'osso. Intanto i giornali oggi parlano della protesta dei gestori di discoteche che ancora vengono penalizzati, nonostante ormai siano trascorsi quasi due anni dall'inizio di questa pandemia perché sono costretti sia, avranno la possibilità di riaprire discoteche ma con una capienza assolutamente ridotta, 35%, loro dicono accendere tutto, impianti e quant'altro, energia personale, tutto con solo il 35% della capienza è più la rimessa che il guadagno, come si dice in parole povere, considerata troppo limitata per riaprire. Parte dalla Romagna l'appello dei gestori che dicono in Europa nessun limite, non solo in discoteche, in Europa non c'è nessun limite neanche per i lavoratori e per tutti gli altri, ma vedremo come andrà a finire, questa è una storia che a questo punto mi incuriosisce, voglio proprio vedere dal 15 che cosa succederà. Controlli antidroga sui bus, due studenti con l'ascis, nessuna irregolarità rilevata dalla polizia per capienza dei mezzi e uso di mascherine, quindi tutto bene, tutti regolari, tutti bravi, a parte qualcuno che teneva dentro di sé un po' di hashish, dentro le tasche un po' di hashish, per il resto tutti bravi. Mentre sempre da Urbino al via i lavori per costruire il marciapiede tra il nodo di scambio dell'ospedale e l'istituto artistico dove i pedoni spesso sono a rischio, siamo sempre a Urbino, quindi partiranno questi lavori per il marciapiede. Invece a Pesaro l'arresto del Carlino racconta di un episodio che non è l'unico, perché questo trova spazio sul giornale ma poi ce ne sono tanti, basta girare, insomma la gente è veramente ai nervi a fior di pelle, come si dice, sono tutti un po', ce lo diciamo, tutti un po' così fuori, nel senso che non gli si può dire niente, sono tutti agitati, tutti nervosi, parapiglia in farmacia per cliente che salta la fila, la ragazza ha inveito contro un'anziana che protestava, poi l'escalation, un giovane ha preso le difese della pensionata ed è finita a schiaffi e spinte. La polizia ha visionato le immagini girate dalle telecamere fisse per ricostruire ciò che era accaduto. È morto Cicori, il padre della pallanuoto, aveva 76 anni ed aveva giocato anche in Serie A a Torino. Il ricordo dei suoi ragazzi che dicono è stato per noi anche un padre, tante le lacrime per questo nuotatore della Visse Sauro, che poi è passato a Torino, lavorava alla cassa di risparmio. E tra l'altro dunque diciamo anche che non ci saranno i funerali, il corpo del padre della pallanuoto cittadina lascerà muraglia per il cimitero di Fano dove verrà cremato. Ex bocciodromo la spuntata Fano, una sfida a tre, sull'impresa Custom si è aggiudicata l'asta per la struttura di via Foscolo. Sull'area a destinazione residenziale si realizzeranno degli appartamenti. Vedete qua intanto il luogo, questo ex bocciodromo che si trova in via Foscolo a Pesaro, che ha delle belle dimensioni perché più di mille metri quadrati, avrà come destinazione urbanistica il residenziale. Il prezzo d'asta era 525 mila euro, quello offerto 709 mila euro. Invece non ci sono state offerte per gli altri lotti. In precedenza il Comune di Pesaro ha venduto all'asta l'ex farmacia Zongo. Andiamo avanti con i nostri giornali. Andiamo sulle pagine delle vallate. Allora, Val Metauro, schiva ma amata dalla gente. Parliamo di Anna Chiara Mascarucci, che è stata votata da 740 cittadini, parliamo di Colli al Metauro. Lei dice mi piace lavorare e non apparire. Tra l'altro, non so dove l'ho letto, forse sul Carlino, ma è una che usa pochissimo i social, quasi per niente, e dice io preferisco andare a parlare con le persone. Ecco infatti sì, il titolo del resto del Carlino è Miss Preferenze, zero social, tante lettere. Un po' alla vecchia maniera. La strategia di Anna Chiara Mascarucci, la candidata donna più votata nell'ultima tornata elettorale, potrebbe essere tra l'altro anche il futuro vice sindaco di Colli al Metauro. Torniamo un attimo indietro per vedere se ho saltato qualche altra notizia. Torniamo sì sulla pagina della Val Metauro. Da Fossombrone, il piazzale del cimitero in stato di abbandono. Buche, rifiuti dispersi, area mai sistemata dopo la costruzione dei loculi. E adesso andiamo sulla pagina della Val Cesano. Centro-sinistra già in crisi, fastidio per l'uscita del PD. Gentili eletto con Futura, le critiche a buon accorsi prima di analizzare insieme il voto. Poi sotto Martino faremo da Mondavio un'opposizione intelligente. Dalla minoranza collaborazione a Zenobi, il governo tra cinque anni. Barista invece aggredito sul lungomare. Siamo a Senigallia. La polizia denuncia due ventenni. La vittima insultata perché andava in monopattino. Poi le botte, riconosciuti grazie ai profili social. Un alunno positivo in quarantena, una classe del liceo medi, lo stop di sette o dieci giorni in base allo stato vaccinale di ciascun ragazzo. Intanto i lupi tornano all'attacco. Sbranate tre caprette a vallone. Una bambina le aveva salvate dal macello. Su Facebook il caso di un cagnolino invece azzannato a Scapezzano. Mentre imbrattati giochi e arredi nei parchi di Ostravetere e sotto case fantasma, denunciato il truffatore a Senigallia, sempre un 38enne torinese, aveva pubblicato online un'inserzione d'affitto. Diocesi in lutto invece ad Ancona per la morte di padre Girolamo Iotti. Trovato senza vita nella sua casa, nella chiesa del Sacro Cuore di via Maratta, pochi mesi fa aveva festeggiato i 70 anni di sacerdozio. Sono stati fissati per domani nella chiesa del Sacro Cuore alle 12 i funerali di padre Girolamo. Tra l'altro artefice dell'apertura di radio e tv agape che ha coinvolto anche i giovani. Quindi era un sacerdote, un prete che credeva anche nei mezzi di comunicazione sociale. Lo sport velocemente, il Fano spreca tutto. Castelnuovo batte il Fano 2 a 1 e Granata avanti nel recupero di Castelnuovo. Ma gli abruzzesi sorpassano. Si è cominciato a giocare al tredicesimo del primo tempo, sempre per quel discorso dell'arbitro infortunato, la rimonta, e quindi la partita che è stata interrotta, la rimonta invece nella ripresa. Gualtieri brilla e ci crede fino in fondo. Qui vedete le pagelle di tutti i giocatori in campo. Il Carlino invece titola Alma che peccato. Beffata in terra da Bruzzo. Nel recupero il Castelnuovo Vomano si impone nella ripresa rimontando il vantaggio di Antezza e conquistando dunque i tre punti. La Samba invece che resta a terra. Samba che perde in casa contro la Recanetese 4 a 2 e infine la VL. La VL c'è, batte Trieste e trova i tifosi. Alla Vitri Frigo Arena una prestazione convincente. Come dicevo, la Carpegna Prosciutto che batte 74 a 61. Allianz Trieste. Ed è tutto per la nostra rassegna stampa. Vi ricordo che alle 16.30, oggi pomeriggio, in diretta, dal Colosseo, incontro promosso dalla comunità di Sant'Egidio dal titolo Religioni e Culture in Dialogo Popoli Fratelli. È tutto, grazie per averci seguito. Vi ricordo che proprio in vista del maltempo, un maltempo che sta già iniziando, quindi la nostra redazione è già al lavoro, ci sono i soliti numeri di telefono, il numero di telefono che vedete qui sotto per le vostre segnalazioni, quindi le segnalazioni che poi serviranno per informare i telespettatori e quindi in qualche modo darci una mano informandovi su quello che accade nel nostro territorio. Quindi aggiornateci per aggiornarvi al meglio. Grazie e buona giornata a tutti.